Vorrei un TAV con legal house tra Roma e Matera, per esempio. Vorrei un prolungamento del TAV nord-sud e stovest sull'Italia che ne ha bisogno. Sarebbe molto meno dispendioso ammodernare l'esistente, che porta appunto, poi è sfruttato il 15%, prima di impegnarci in una ripartizione tra l'altro iniqua, su cui il Presidente Conte potrebbe anche intervenire. Perché? Perché i francesi pagheranno per i loro 45 chilometri un miliardo più o meno, mentre loro per i 12,5 chilometri pagheranno un miliardo. Noi, scusate, al contrario, 45 chilometri sono italiani e l'Italia paga due terzi, quattro miliardi. 45 chilometri sono francesi e l'Italia, scusate, ma i dati sono molti, vi prego di avere parte. Per cortesia. 45 chilometri sono in Francia e l'Italia paga 4 miliardi per i chilometri francesi, mentre per i suoi 12 ne paga uno. Allora, si potrebbe ripartire questa cosa, riprendendo il discorso con Macron, anche se Macron dice chiaramente da tempo che con gli italiani non ha tempo da perdere. Questo è un altro, devo dire, insulto al nostro Paese, dopo il fatto che appunto la società italo-francese si è permessa persino di venire a fare gli espropri in Italia.